fu come immergersi in una pozzangara di acqua nera e sporca la nebbia che saliva verso di loro lambì ansiosamente i loro stivali salì sulle loro gambe e si avvolse attorno ai fianchi arrivò alle spalle e al collo un attimo più tardi finì per sommergerli completamente ben faticò a vincere l'impulso a trattenere il respiro davanti a quell'ondata soffocante afferrò ancora più strettamente la mano di willow la nebbia era uno schermo impenetrabile si chiudeva su di loro come una coperta che volesse soffocarli si afferrava la loro pelle condita umide e il suo tocco causava irritazione l'aria puzzava di muffa e di legno marcio e la nebbia veniva a sembrare veleno liquido schizzato sulla pelle dalla nebbia aggiungeva uno sgradevole tepore come se una grande creatura vi fosse intrappolata e sudasse per la paura mentre la vita le veniva succhiata via piano piano ben comprese che quella paura era la sua e cercò di dominarla respirava a scatti ed era madido di sudore non aveva mai provato una paura come quella neppure quando il marchio di ferro lo aveva inseguito nel passaggio temporale neppure quando aveva incontrato il drago era la paura di qualcosa che non si lasciava vedere i suoi piedi avanzavano automaticamente fra i cespugli della discesa non si accorgeva di muoverli davanti a lui un paio di metri di distanza si intravedevano le figure degli ignomi che proseguivano ostinatamente accanto lui c'era willow che in mezzo alla nebbia veniva ad assomigliare a un fantasma i capelli e i ciuffi di pelo che le crescevano dietro le braccia e dietro le gambe si agitavano nella nebbia come se si fosse alzato il vento ben vedeva qualche roccia e qualche arbusto scorgeva le sagome dei monti e degli alberi più alti ma non vi badava la sua attenzione si concentrava su quel che non riusciva a vedere con la mano libera cercò il medaglione che portava al collo quando lo strinse si sentì più sicuro proseguirono per molti minuti immersi nella nebbia infine il terreno divenne piano la nebbia sparì e apparvero i primi alberi erano giunti in un piccolo altopiano all'interno del pozzo infido ben batte gli occhi era una foresta tropicale chiusa tra montagne che si perdevano nel fondo del cielo fantastico l'orlo del pozzo non si vedeva più ben passò davanti agli ignomi per salire su un piccolo promontorio e da quella posizione elevata posò lo sguardo sulla foresta rimase senza fiato oh mio dio mormorò la giungla contenuta all'interno del pozzo infido si stendeva perdita d'occhio era grande come l'intero landover willow bisbigliò con ansia lei lo raggiunse subito ben le indicò la foresta vasta all'inverosimile e la ragazza comprese immediatamente gli strinse la mano è solo un'illusione ben si affrettò a dire quello che vedi in realtà non esiste è solo la magia della strega del crepuscolo per spaventarci riflette mille volte contro di noi la larghezza della cavità ben annui vedeva sempre la stessa scena ma annui come se fosse cambiata certo un trucco magico per allontanarci per calmarsi trasse un profondo respiro vuoi che ti dica una cosa willow il trucco ha funzionato le sorrise ma tu come hai fatto a non lasciarti ingannare lei gli rivolse un sorriso astuto come tutte le creature del mondo magico scopro subito questo genere di trucchi proseguirono in direzioni del fondo philippe sott non parevano dare peso all'illusione forse con i loro occhietti miopi non l'avevano neppure vista a volte l'ignoranza era davvero una fortuna giunti a piedi dalla discesa si fermarono davanti a loro si stendeva una sterpaia che pareva proseguire all'infinito tronchi nodosi rami simili a zampe di ragno viticci che sembravano serpenti il terreno era umido e cedevole philippe sott fiutarono per qualche istante l'aria poi ripresero il cammino ben e willow si affrettarono seguirli passarono per sentieri che nessuno sarebbe riuscito a distinguere in un ambiente stranamente immobile non videro né udirono altre creature viventi non c'erano animali che lanciassero i loro richiami non volavano uccelli non si udivano ronzare insetti la luce che riusciva a filtrare in mezzo la nebbia era debole e grigia la sensazione dominante era quella di essere stati inghiottiti da un mostro di essere in trappola pochi minuti più tardi trovarono le lucertole il gruppo era in cima a una lunga gola e stava per scendere quando ben scorse qualcosa che si muoveva ordinò agli altri di fermarsi e studiò con cautela le ombre in fondo alla gola c'erano decine di lucertole con i loro corpi di color verde scuro si passavano l'una sull'altra e con le lingue biforcute sferzavano l'aria ce n'erano di tutte le taglie alcune grosse come alligatori altre piccole come ranocchie bloccavano completamente il passaggio willow gli prese la mano e sorrise un'altra illusione ben gli assicurò da questa parte alto signore suggerì philip venga venga alto signore lo invitò sott scesero in fondo alla gola e le lucertole scomparvero ben era di nuovo madito di sudore e si sentiva uno sciocco ma le illusioni non erano ancora finite e ben cadde ogni volta né d'inganno incontrarono un enorme frassino gremito di pipistrelle giganteschi incontrarono un ruscello pieno di pesci che assomigliavano piragna peggio di tutte c'era una radura con braccia vagamente umane che uscivano dalla terra mani con lunghe unghie che cercavano di afferrare tutto ciò che le sfiorava ogni volta willow e gli ignomi proseguirono senza esitazione e le immagini illusorie ridivennero nebbia era passata più di un'ora quando finalmente raggiunsero la palude il pomeriggio era già inoltrato scorsero un enorme acquitrino pieno di giunchi e di sabbie mobili che si stendeva a perdita d'occhio dall'acqua si levava un filo di vapore e la sabbia ribolliva come per qualche cavità piena di gas ben guardò willow illusione chiese anche se sapeva già di conoscere la risposta ma la ragazza scosse la testa no la palude è vera gli ignomi erano tornati a fiutare l'aria ben al solo sguardo su un ramo secco a qualche decina di metri da lui era appolaiato un corvo un uccello grosso e sgraziato con una striscia bianca sulla testa l'animale lo fissava con occhi scuri la testa piegata di lato come se riflettesse ben distolse gli occhi e adesso chiese ai compagni più avanti c'è un sentiero alto signore rispose philip un passaggio in mezzo alla palude confermò sott sollevarono i musi da furetti e si avviarono lungo il confine della palude fiutando l'aria poi dopo un centinaio di metri gli ignomi si voltarono verso la palude e cominciarono ad attraversarla in quel punto l'acquitrino non pareva aver niente di diverso ma il terreno era sufficientemente solido e in pochi minuti furono fuori pericolo ben guardò il corvo l'animale lo stava ancora sorvegliando non facciamoci prendere dai complessi di persecuzione disse a se stesso proseguirono fra gli alberi di una foresta tropicale dopo qualche minuto philip e sott cominciarono a dare segni di profonda eccitazione ben andò a vedere e scoprì che gli ignomi avevano trovato un nido di topi campagnoli e che avevano messo in fuga gli animaletti philip si stese a pancia a terra e si infilò silenziosamente sotto un cespuglio e ne riemerse con in mano una delle bestiole le staccò la testa con un morso e porse il resto a sott ben fece una smorfia di disgusto rifilò sotto una pedata nel sedere e con irritazione ordinò i due di proseguire ma il ricordo del topo senza testa continuò a perseguitarlo se ne dimenticò comunque quando giunsero al muro di rovi gli arbusti spinosi erano alti più di quattro metri e si estendevano a perdita d'occhio ancora una volta ben rivolse a willow un'occhiata interrogativa anche i rovi sono veri annunciò lei philip e sott annusarono l'aria prima da una parte e poi dall'altra e infine si diresse alla destra dopo una cinquantina di metri ben scorse di nuovo il corvo era appolaiato in cima al muro di rovi proprio sopra di loro e guardava in basso due occhi acuti fissarono ben lui incrociò per un attimo lo sguardo del corvo ed ebbe la netta impressione che gli strizzasse un occhio da questa parte alto signore lo chiamò philip c'è c'è un passaggio qua dietro alto signore annunciò sott gli ignomi entrarono nei rovi come se non esistessero e ben e willow li seguirono non fecero fatica a passare giunto alla fine del passaggio ben si raddrizzò e si guardò alle spalle il corvo era sparito rivide molte volte il corvo immobile su qualche ramo il volatile era sempre intento a rimirarlo con lo sguardo di chi nasconde un segreto ma non lo vide mai levarsi in volo e non lo sentì gracchiare una volta chiese a willow se lo vedeva anche lei non era certo che non si trattasse di un'altra illusione la ragazza disse che lo vedeva ma che non capiva perché fosse laggiù deve essere l'unico uccello del pozzo disse ben dubbioso willow annui forse appartiene alla strega del crepuscolo non era un pensiero molto rassicurante ma ben non poteva farci niente e di conseguenza cercò di ignorarlo la nebbia stava progressivamente svanendo ne rimaneva solo nelle depressioni come nuvole tenute al guinzaglio il cielo si rischiarava ma le pareti del pozzo infido non si scorgevano sapete dove ci troviamo quanta strada abbiamo fatto chiese agli altri che però scossero la testa poi all'improvviso la giungla finì e il gruppetto si trovò davanti un castello immenso il più grande che ben avesse mai visto sorgeva davanti a loro come una montagna le torri salivano fino a perdersi nella nebbia che ancora copriva il cielo e le loro vette erano invisibili le mura correvano per chilometri e chilometri fino all'orizzonte torri bastioni parapetti erano costruiti l'uno sull'altro fino a formare un complesso architettonico in cui l'occhio si perdeva l'insieme era talmente vasto da poter ospitare una città intera nel suo guscio di pietra sorgeva su un grande alto piano un sentiero coperto di ciottoli portava fino alle porte del castello che erano aperte ben guardò al castello nor riusciva a credere ai propri occhi l'istinto gli diceva che non poteva esistere una costruzione così immensa doveva essere un'illusione magica come quella che aveva incontrato durante la discesa che cos'è willow chiese per porre fine alle sue ipotesi inutili la sua voce era carica di incredulità ma anche di timore reverenziale non so ben anche la ragazza fissava con grande sorpresa il mostruoso castello scosse lentamente la testa non capisco ben questa non è un'illusione eppure lo è sento la presenza della magia ma la magia spiega solo una parte di quello che vediamo anche gli ignomi va via erano confusi spostavano il peso del corpo da un piede all'altro e giravano da tutte le parti la faccia da furetto per cercare qualche odore di cui si potessero fidare non ne trovarono e cominciarono a mormorare piano ben distorse lo sguardo dal castello e si guardò attorno con attenzione per cercare qualcosa che gliene rivelasse l'origine e lo scopo da prima vide solo la giungla e la nebbia poi vide il corvo era appolaiato sul ramo a qualche metro di distanza con le ali accuratamente ripiegate gli occhi fissi su di lui era lo stesso animale di prima con le penne nere lucide e la striscia bianca sulla testa ben lo fissò non ne sapeva il motivo ma gli pareva che il corvo conoscesse perfettamente la situazione e si irritava nel vederlo così placidamente sul suo ramo come in attesa delle prossime mosse di ben andiamo disse ai compagni e si avviarono lungo il sentiero avanzarono con circospezione fino a giungere davanti al castello la costruzione non si dissolse come pensava ben invece prese un aspetto cupo e minaccioso a mano a mano che si scorgevano nuovi particolari della rocca si udiva il rumore del vento che fischiava tra le torri ai bastioni adesso era ben ad aprire la strada seguito da willow gli ignomi si erano messi al fianco di ben si afferravano ai suoi calzoni e si guardavano attorno con apprensione il sentiero era cosparso di foglie secche e di rametti spezzati l'aria si era fatta improvvisamente gelida la porta del castello assomigliava a una bocca spalancata con i denti d'acciaio della saracinesca le ombre avvolgevano ogni cosa in una cortina impenetrabile ben nell'entrare rallentò l'andatura e cercò di scorgere qualcosa nell'oscurità riuscì a distinguere una sorta di cortile con sedie e tavoli sparsi qua e là alcuni bracieri anneriti e un trono impolverato e coperto di ragnatele oltre a quello non vide altro continuò ad andare avanti seguito dai compagni passarono sotto la saracinesca ed entrarono nel cortile era massiccio abbandonato e vuoto nel silenzio i loro passi sulla pietra facevano un rumore sordo ben era giunto a metà del cortile quando vide il corvo chissà com'è era arrivato laggiù prima di loro sedeva sul trono e lo fissava negli occhi ben rallentò fino a fermarsi il corvo batte le palpebre e all'improvviso i suoi occhi divennero rossi e luminosi la strega del crepuscolo mormorò willow per avvertire ben il corvo cominciò a trasformarsi parve ingrandirsi sullo sfondo scuro dell'oscurità del cortile e venne avvolto da una luce rossastra si alzava come uno spettro liberato dalle catene il carbone dei braceri fu investito da una vampata rossastra e prese tutto fuoco all'improvviso una forte luce cancellò tutta l'oscurità gli ignomi lanciarono un grido strangolato raggiunsero in un lampo le porte del castello e sparirono willow rimase accanto a ben e si aggrappò alla sua mano come un salvagente che le impedisse di affogare ben vide il corvo trasformarsi in qualcosa di ancora più scuro e per la prima volta ebbe il sospetto di aver commesso un terribile errore poi l'alone di fiamma rossastra si spense progressivamente rimase solo la luce dei fuochi che bruciavano nei braceri di ferro benvenuto nel pozzo infido grande e possente alto signore lo salutò la strega parlando a bassa voce poco più di un sibilo l'aspetto della strega del crepuscolo era assai diverso dalle aspettative di ben non assomigliava certo a una strega anche se non dubitò neppure per un istante che lo fosse era alta con i lineamenti affilati la pelle bianchissima e senza macchie i capelli neri come le penne del corvo a parte una ciocca bianca al centro non era né giovane né vecchia ma qualcosa di mezzo a guardarla pareva senza età come una statua come la creazione di uno scultore in grado di sopravvivere alle generazioni umane ben non sapeva quale artista avesse creato la strega né se fosse un dio o un diavolo ma la scultura era fatta con arte la strega del crepuscolo non era una donna che potesse passare inosservata la strega si alzò le vesti nere si drappeggiarono attorno alla sua forma alta e magra scese dal trono e si fermò a pochi metri di distanza da ben e da willow scese dal trono e adonato scese dal trono e si fermò a pochi metri di distanza dati sono una donna mettore di distanza Grazie a tutti.